Si è svolta ieri presso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo la lunga necroscopia sull'orsa marena, fatta per capire bene come sia morto l'animale. E' bastato un solo colpo esploso dal fucile di Andrea Leonbruni scritto nel registro degli indagati. Il proiettile ha colpito lateralmente il plantigrado e perforato i polmoni. Prima dell'esame autoptico è stata eseguita presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo anche la radiografia sul corpo dell'animale. Sì, abbiamo fatto una parte delle indagini che ovviamente rientrano in un protocollo più ampio di autopsia che viene condotta dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Bruccia e Molise. L'orsa si è spenta per un'emorragia ma i periti si sono riservati ulteriori accertamenti per capire il lasso di tempo trascorso tra lo sparo e la morte di Amarena. Mentre sul fronte dei cuccioli la notizia più importante è che i piccoli si sono ricongiunti e restano all'interno dei confini del parco. Nella notte tra lunedì e martedì i visori notturni dei guardi a parco li hanno avvistati mentre si alimentavano su una pianta di mele a 10 chilometri di distanza da San Benedetto dei Marsi. Le loro condizioni di salute sono buone ma il rischio che possano essere uccisi dai predatori è ancora alto. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise tuttavia ha confermato la volontà di non procedere alla cattura degli esemplari. L'ente parco ha adottato una strategia che secondo me, per quello che posso capire, ovviamente non sono strettamente competente sull'argomento, però mi sembra una strategia giusta, condivisibile. I cuccioli vanno lasciati liberi, in grado di adattarsi all'ambiente e sembra, dalle osservazioni che vengono fatte, che effettivamente siano in buona salute e questo evita che sviluppino un atteggiamento troppo confidente con l'uomo che potrebbe metterli a rischio nel futuro. Sono due gli elementi che al momento hanno convinto gli esperti a non intervenire sulla cattura dei due esemplari. Il primo è che gli orsetti riescono a orientarsi, il secondo riguarda invece la capacità di alimentarsi in autonomia anche senza la madre. Sì esattamente, evidentemente la mamma marena aveva già fatto buona scuola. Va ricordato che l'orso bruno marsicano non entra in uno stato di letargo vero e proprio come quello di altre specie, mantenendo un buon livello di reattività e di stimoli esterni per questo motivo sarà ancora più importante tenere sotto controllo i due cuccioli. Beh, io penso che saranno comunque monitorati, controllati dal personale dell'ente parco e quindi probabilmente ci daranno aggiornamenti in merito. Seppur la cattura sia sospesa e lo stesso parco ad avvertire sui rischi che corrono i piccoli, le possibilità di sopravvivenza purtroppo non sono alte, le insidie anche naturali sono molte. Qualsiasi disturbo o interferenza di origine antropica potrebbe causare l'allontanamento dei cuccioli da aree idonee e una loro nuova separazione. Ed è per questo che il parco ha lanciato l'ennesimo appello ai cittadini rinunciare ad andare a cercare di avvistare i cuccioli e non intralciare in alcun modo le operazioni di monitoraggio.